consumare le limitazioni se è vera la legge di reincarnazione io nel medioevo come ho vissuto commenta ovunque tutti sia incarnato nel cosiddetto medioevo hai vissuto per consumare le limitazioni che avevi in quel tempo come adesso consumi le limitazioni che sono matematicamente meno pesanti di quelle che avevi nel medioevo